Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Firenze ci sono code a tratti tra la diramazione per Pisa e Pontedera Ovest Consacco e due chilometri di coda per un incidente tra Empoli e Montelupo Fiorentino. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante di Balico in direzione Bologna. Sulla statale 1 Aurelia, riduzione di carreggiata per lavori tra Pisa Nord e la variante di Viareggio in entrambe le direzioni tra i chilometri 343 800 e 343 900. A Firenze per i cantieri della tramvia, da domani chiusa via Valfonda fino al 10 agosto, deviazione dei mezzi pubblici sull'itinerario Piazza della Stazione Via della Scala. Muoversi in Toscana Inf, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!